La nuova Redo Arena si conferma il furtino della Virtus Francavilla. Gli uomini di Calabro cancellano la sconfitta contro la Gelbison con un netto 3-0 al Monterosi. Del solito Patierno, Di Pierno e Maiorino le firme sul successo. Le formazioni, tre novità per parte rispetto all'ultimo turno di campionato. Calabro ridisegna la Virtus escludendo dall'undici di partenza Pierno, Cardoselli e Cecioà. Dentro Cisco, Risolo e Maiorino nel 3-5-2. Monterosi a specchio, Piroli prende il posto di Tartaglia in difesa, Menichini squalificato e sostituito in panchina da Dideo rilancia il suo capocannoniere Costantino in attacco. 80 secondi e va in vantaggio la Virtus Francavilla. Patierno raccoglie sulla tre quarti dopo un errore di Piroli, punta Borri e Mbendè e fa una 0 aprendo il piattone. Forte battuto e rete numero 13 in campionato per il numero 9. Monologo Virtus in avvio, Murillo prova a coordinarsi su cross di Cisco ma la deviazione termina alta. Sugli sviluppi del corner va a segno Patierno ma l'arbitro Gigliotti annulla per la spinta di Caporale a centro area. Poi Gasperi affonda a destra, tiro cross, Avella smanaccia. Attingono dalla panchina Calabro e Dideo, dentro Pierno e Ceciuan e la Virtus, Tartaglia e Lipani per il Monterosi. Proprio Pierno raddoppia il primo pallone giocato, controllo sui 25 metri, triangolo chiesto e ottenuto da Patierno e piattone alle spalle di Forte. Primo gol in stagione per il laterale ex Catanzaro. Notte fonda per il Monterosi che resta anche in 10 al 77, Mbendè, pasticcia nella metà campo, ospite, si fa scippare il pallone da Patierno. Il 9 va in fuga e viene steso al limite dell'area, rosso per il difensore. Sugli sviluppi arriva il gol di Maiorino, del piazzato si incarica il fantasista, conclusione forte e centrale, sporcata da un avversario, forte, infilato tra le gambe, 3-0. Il finale è pura accademia, la Virtus Francavilla festeggia la sesta vittoria di file in casa e prepara il derby di mercoledì sera ad Andria contro la Fidelis entrando in quota playoff con 31 punti. Il Monterosi incassa il primo K.O. del 2023 e resta in zona play-out. Il Monterosi incassa il primo K.O. del 2023 e resta in zona play-out.